Incominciamo con la diretta streaming e non ci sta guardando, vale, siamo qui a Lambrate, stanno intervistando Laura Castelli, il Fatto Quotidiano e altri giornalisti, e qui c'è Daniele Pesco, poi c'è Juan, vuoi salutare Osvaldo? Siamo già in diretta. Oggi c'è la creme della creme. Ah no, però tolgo. Il mio preferito è Giorgio Giorgis, Soria, Andrea Colletti. Eh ma non dirlo così, sono altri oggi. Ok. Andiamo. Sì, stanno intervistando Laura Castelli. Sì, c'è Vincenzo Caso. Ah, quella è Azzurra Cancelleri? Girati. Quella è Bionda Ricciolina? Oh no. Ma in macro cosa ha Azzurra Cancelleri? In metà, in mediterranea. Non è quella Ricciolina che c'è lì? Quella vicino lì? No, non c'è lì, da quelle parti. Sì, sì. Vincenzo è intervistato. Adesso voglio fare una prova, se me lo salva. Visto che adesso non c'è. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie.